Campagna elettorale ormai nel vivo all'Aquila con l'arrivo di leader nazionali dei partiti ed esponenti nazionali dei diversi schieramenti. In città oggi la senatrice Licia Ronzulli, responsabile nazionale di Forza Italia per i rapporti con gli alleati. L'occasione è stata la presentazione della lista di Forza Italia per le comunali. Sono giorni di fibrillazione al governo centrale con temi sul piatto di grande interesse, come quello ad esempio delle concessioni balneari. Tema per il quale Forza Italia ha una posizione ben precisa, vanno tutelate le aziende, dice la Ronzulli. Beh sì, siamo vicini all'intesa, non c'è ancora stato un accordo, è evidente che noi di Forza Italia, come penso tutto il centro-destra, avrebbe voluto altro. Non possiamo nasconderci dietro un filo d'erba, ma questo è quello che stiamo proponendo noi questa mattina al governo, che proporremo in questione al governo, è un buon compromesso che va a tutelare le 30.000 aziende che non solo hanno stretto la cinghia durante il Covid, e sappiamo che tutta la parte turistica ha avuto un grandissimo rallentamento. Ma ricordiamoci sempre che le aziende balneari non sono soltanto degli imprenditori che portano a casa lo stipendio. Noi quando parliamo delle imprese balneari dobbiamo pensare a come dei guardiani delle nostre coste, perché se sono così belle è anche merito loro e se noi abbiamo la fortuna di avere delle coste così funzionali e così esteticamente belle che tutto il mondo ci invidia, lo dobbiamo anche a questi imprenditori. È il motivo per cui noi vogliamo tutelarli, faremo di tutto per raggiungere il miglior risultato possibile stando in questo governo. Non mi nascondo dietro la sua domanda. Io sono convinta che il centrodestra con un governo di centrodestra avrebbe fatto di più e meglio, però questo è un governo di unità nazionale, Forza Italia ha deciso di partecipare, tutte le scelte sono legittime, noi abbiamo deciso di indossare la maglia della nazionale e di scendere in campo, però è ovvio che probabilmente molte riforme le avremo scritte decisamente meglio e anche in minor tempo. Alla Ronzulli è stato chiesto anche se Berlusconi sarà l'Aquila prima delle elezioni. La speranza c'è, afferma, è molto legato alla città, dice la senatrice.